buongiorno a tutti è arrivato in assoluto il momento perfetto per piantare il balcone al fine di avere delle fioriture durante tutto il periodo ostivo quasi fino al periodo autunnale e tengo in mano un geranio particolare è un geranio un po novità di quest'anno è un colore screziato particolarmente nuovo con questo tocco di rosa con delle screzzature di colore viola e quindi anche per chi ha centinaia di vasi di gerani a casa probabilmente questo geranio nello specifico difficilmente lo avrete e sicuramente la cosa che consigliamo sempre i nostri clienti quando vengono all'interno del garden e di non basarsi semplicemente sulla pianta che più ci piace ma sulla pianta che sarebbe perfetta per il nostro balcone perché posso avere un balcone ombreggiato non ombreggiato o anche particolarmente soleggiato e problemi anche d'acqua e quindi in base alle vostre richieste abbiamo una specifica soluzione la prima cosa in assoluto è studiare l'esposizione ombreggiata soleggiata esposto a nord oppure a sud in modo tale da cercare di capire la pianta giusta in proporzione allo spazio che gli posso dare sicuramente la lobularia che voi non potete sentire ma è una pianta profumatissima e c'è un odore di miele molto intenso qui intorno alla lobularia stessa è una pianta che va molto bene in un ambiente ombreggiato quindi se non ha molto sole la lobularia è una pianta perfetta è una pianta perenne garantisce una fioritura per tutta l'estate qualvolta anche fino all'autunno e soffre difficilmente il freddo ma il suo tallone d'achille sono le altissime temperature e il sole quindi ponendola in un ambiente ombreggiato sicuramente avremo un grande risultato ma poi di piante che possiamo tenere in ombra ce ne sono tante nuova guinea bacopa con i suoi fiori che vanno dal bianco azzurro e fino a rosa e poi sicuramente anche la lobularia con una fioritura che attrae particolarmente le api e gli insetti pronovi se invece il mio balcone è principalmente esposto per mezza giornata al sole allora lì la gamma di piante aumenta drasticamente e tra le più interessanti secondo noi o perlomeno quelle che ogni anno piacciono di più ai nostri clienti sono sicuramente le surfigne e le potugne che sono delle piante estremamente fiorifere hanno dei colori pazzeschi cioè possiamo passare dal blu con i puntini bianchi chiamato night sky da cielo stellato oppure anche un bianco rosa spicchio e qui possiamo veramente sbizzarrirci con i colori e anche con le combinazioni e questa è una pianta che tollera bene anche il pieno sole il suo problema però qual è poi che se sta in un sole super coccente diventa difficile da gestire con il discorso dell'acqua dobbiamo bagnare veramente in maniera insistente invece se riusciamo a porla in una mezza giornata o anche piccolo consiglio la tenda e per chi ne avesse la possibilità che in qualche modo toglie quel sole diretto coccente la pianta sicuramente respirerà meglio starà meglio richiederà un pochettino meno acqua e quindi riusciremo a gestirla molto molto meglio e questa la surfigne è una pianta che veramente fino a settembre ottobre se trova la posizione giusta e se la annaffiamo adeguatamente la troviamo fiorita fino a tardi per chi invece avesse un balcone super soleggiato e purtroppo mi rendo conto che negli ultimi anni la coltivazione in un balcone molto soleggiato sta diventando sempre più difficile perché il nostro clima sta passando da estati mediterranei a estate africane e quindi le piante che utilizzavamo un tempo per il pieno sole incominciano a far fatica lo scorso anno abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte dei nostri clienti della difficoltà della coltivazione di piante in pieno sole e allora da lì ci siamo subito adoperati e forti anche del fatto che siamo dei produttori diretti ci siamo messi all'opera per ricercare delle piante che abbiano un'origine diversa e che siano naturalmente più resistenti al sole e alla siccità e quest'anno siamo riusciti a reperire e lo scorso anno a testare una serie di varietà che sono nuove in assoluto sul mercato e vi faccio un esempio al volo di una balconiera che abbiamo preparato per darvi uno spunto e questa pianta col fiorellino giallo si chiama desert gold è una pianta originaria dell'australia e quindi immaginate delle aree semi desertiche che proprio sono tipiche del territorio e questa è una pianta che fa un fiorellino giallo per tutta la stagione più sole c'è e più lei fiorisce ed è anche molto resistente alla siccità e la diamond frost invece questa nebbiolina di colore bianco è una euforbia quindi vagamente è una pianta che appartiene alla famiglia delle piante grasse delle euforbiacee per farvi capire l'euforbia è il classico cactus che possiamo vedere anche nei film o che in tanti di voi sicuramente avranno a casa e quindi entrambe piante molto resistenti alla siccità però senza andare a compromettere un lato estetico c'è questa combinazione tra giallo e questa nebbiolina bianca sicuramente è una combinazione che all'occhio è molto piacevole